Ah, ok. Allora De Magistris, le giro io le domande perché non sente lui dallo studio. Questa vittoria che è arrivata così inaspettata? Non era tanto inaspettata per me perché c'era tanta partecipazione politica in queste settimane. Certamente in queste proporzioni era difficile prevederlo, ma molti non hanno colto quello che sta accadendo a Napoli. Un grande movimento popolare che va ben al di là dei partiti, non è una vittoria del centro-sinistra, qualcosa di più. Ovviamente bisogna poi saper cogliere questi messaggi, che non sono messaggi di antipolitica, ma di voglia di fare politica e soprattutto i tantissimi giovani che mi hanno accompagnato in questa campagna elettorale. Ma terrà lontani i partiti dalla sua giunta? Ma i partiti non è che sono una maledizione. I partiti fanno parte della democrazia, debbano dare il loro contributo, verranno ascoltati e credo che hanno capito quello che è il messaggio di Napoli. Quindi ascolterò loro, ma ascolterò molto tutte le forze sane e produttive e democratiche di questa città. La giunta poi sarà scelta da meno alla massima autonomia, puntando su donne e uomini oneste, competenti, credibili e coraggiosi. E si dimetterà dalla magistratura? Io sono già dimesso, dico purtroppo perché era quello che avevo sognato di fare per tutta la vita. Ormai sono due anni che faccio politica, ero presidente della commissione controllo bilancio perché adesso scatta l'incompatibilità e farò il sindaco di Napoli, il sindaco di tutti. A tempo pieno. Avete delle domande dallo studio? Mi senti? Sì. Possiamo chiedere allora a De Magistris se ci racconta della telefonata con Napolitano, col più illustre cittadino della città di cui lui adesso è sindaco? Naturalmente è rimbalzata la notizia della telefonata che ha ricevuto da Napolitano e quindi che cosa le ha detto? Ho chiamato io il presidente, mi sembrava una telefonata doverosa, il presidente tra l'altro è napoletano, ho voluto trasmettere al presidente napolitano il grandissimo entusiasmo di queste settimane di Napoli, soprattutto dei giovani e il mio impegno massimo dalla mattina alla sera per dare dignità a questa città, orgoglio, Napoli non solo può ritornare a splendere e occupare il posto che merita, ma può essere anche una volta liberata una delle città economicamente più ricche d'Italia, dico liberata perché deve essere liberata non solo dalla spazzatura ma anche da un certo modo di fare politica, bisogno di libertà di impresa, libertà nella cultura, nel commercio, una città in cui si creano le condizioni di legalità per ripartire tutti insieme, non sarà un percorso ideologico ma posto ideologico. E cosa le ha risposto a Napoletano? È stato contento la telefonata, mi ha fatto i complimenti per il risultato, gli auguri, e mi ha detto che lui da napoletano guarderà con molta attenzione quello che accadrà, ha detto che fare il sindaco è una delle cose più difficili che ci possa stare, ho detto non mi spaventa, sono pronto a partire. E questa sera c'è la festa in piazza, piazza Municipio? Sì, da domani mattina si inizia a lavorare, ma stasera ci votiamo una grande festa a piazza Municipio perché i protagonisti di questa vittoria sono i cittadini napoletani, hanno scritto una pagina storica, una rivoluzione pacifica e quindi meritano di essere coinvolti in questa giornata. Tensioni? Secondo lei ce ne saranno altre questi giorni sul voto? Ci sono state tante polemiche? Ma mi auguro veramente di no, io ho mandato anche un messaggio all'opposizione che io voglio lavorare anche con un'opposizione costruttiva e un invito che ho fatto anche ai consigli del PDL di abbandonare il metodo boffo perché non merita, è stato anche utilizzato in questi giorni, credo che insieme bisogna costruire Napoli, chi ha sindaco si assume le responsabilità con la sua maggioranza, l'opposizione fa l'opposizione, c'è la mia massima disponibilità a dialogare, mi ha chiamato anche Gianni Lettiri per farmi gli auguri, gli ho detto che ho apprezzato la telefonata, adesso basta polemiche e bisogna ripartire. Avete altre domande? No, no, perfetto, ci mancava soltanto un invito finale avanti al centro contro gli opposti estremismi perché è completamente istituzionalizzato, mi congratulo con il sindaco, senza ironie, complimenti a De Magistris e buon lavoro. Dice che è istituzionalizzato, dice Mentana, completamente istituzionalizzato ma è con un buon lavoro. Direttore, io purtroppo non l'ascolto perché non ho l'auricolare ma la saluto e saluto tutti quelli che stanno in studio, devo scappare di là che mi aspettano dei suoi colleghi, la giornata è un po' convulsa e grazie di avermi ho spiegato la vostra trasmissione. È solo un piacere per noi, grazie, grazie anche Alessandra Sardoni. Ecco, Quagliariello.